Ciao a tutti amici di Fido e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della pettorina Julius K9. Queste pettorine sono comode, sicure e anche belle da vedere. Disponibili in diversi colori tra cui blu, arancio, rosa, rosso e anche personalizzabili. Non sono fastidiose per il cane, sono indicate per uso professionale, sportivo o domestico. È un prodotto resistente al graffio e idrorepellente che garantisce una facile pulizia e durata nel tempo. La pettorina è dotata inoltre di cinghia completamente regolabile su torace e ventre, adattandosi così perfettamente al corpo del cane, tanto che si dimenticherà di averla addosso. Sul lato dorsale è dotata di un pratico anello in acciaio inox per agganciare in modo semplice e sicuro il guinzaglio, in modo da condurre il tuo fedele amico a quattro zampe con estrema comodità e senza sforzi. È munita sul dorso, ad esclusione delle taglie baby 1 e 2, di una maniglia per sollevare temporaneamente o trattenere brevemente il cane. Un'option particolarmente simpatico è la possibilità di personalizzare la pettorina del ploso di famiglia, magari con il suo nome, in modo da renderla più sua con quel tocco di originalità che non guasta mai. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportarmi. Vi do l'appuntamento al prossimo video.